FUN NUMBERS È acceso? Sta registrando? Ok. Yo, amico! Ehi, qui è il tuo amico gay, UG Rection, e sono qui con un nuovo video. Yo, amico! Dunque, il nuovo film Spider- Far From Home è appena uscito, quindi ho pensato di diventare Spider-Man per un giorno e fermare il crimine di Toonsville. Yo, amico! Quindi, dato che sono Spider-Man, ho fatto una lista di cose da fare. Zooma, Sonic Boy! Per l'ultima volta, io non mi chiamo così. Abbi un po' di rispetto per il mio nome! Non me ne frega niente! Dunque, queste sono le cose che Spider-Man fa nei film di solito. Quindi seguirò questi step per diventare un nuovo amichevole Spider-Man di quartiere. Yo, amico! Ok, prima che vada a combattere il crimine devo imparare ad usare i miei spara-ragnatele. Ok, ragazzi, ci siamo! Test degli spara-ragnatele numero uno. Yo, amico! È stato davvero epico. Yo, amico! E ora vediamo se riesco a sparare una ragnatela mentre salto giù da un edificio in stile Spider-Man. Yo, amico! Sei sicuro di non voler saltare questo step? Mi sembra un po' pericoloso, è una bella altezza. Fidati di me, Sonic Boy! Osserva bene! Yo, amico! Oh, merda, l'ho mancato! Test di oscillazione parte 2. Yo, amico! È ora di oscillare da un edificio all'altro. Stai registrando, Sonic Boy? Sì, parti quando sei pronto! Ok, ragazzi, è ora di oscillare! Vai! Vai! Vai, ragnatela, vai! Oh, cazzo! Ora è il momento di arrampicarsi sui muri in stile Spider-Man. Yo, amico! D'accordo, vai! Ok, ho appreso le basi, ora è il momento di salvare della gente Aioh, amico Ehm, Hugh, la città è piuttosto tranquilla ultimamente, quindi come farai a salvare qualcuno? Immagino dovrò fare come i poliziotti Ehi, quello è un ragazzo nero, mi sta derubando Dove sono i soldi? Dove hai messo i soldi? Ehm, Hugh, questo è più da Batman che da Spider-Man Oh, oh, giusto, dov'è Tony Stark? Morto Stavo solo scherzando Io, amico, ho appena salvato il mondo dal cioccolato malvagio Ma, aspetta, tu dovresti cercare di prenderlo perché Spider-Man non uccide Oh, oh, giusto, ora lo prendo con... Ehi, ragazzi, sono venuto a cercare Mary Jane al parco per salvarla Mary Jane, sono qui per... Ma che c***o Mary Jane? Peter? Che sta succedendo? Mi stai tradendo? Sto uscendo con un amico Io me la sc***a Taci un po', Nick Ehm, cos'è questo rumore? Vuoi diventare un Avenger? Ma tu non dovresti essere morto? I veri nigg non muoiono mai Dov'è Jane? Ehm, vuoi dire Mary Jane? No, strozzo, Jane Foster Io non so chi sia, capo Mi sc***a anche lei Sai chi sono, strozzo? Sono un fottuto dio Qual è il dio delle calorie? Questa me la paghi Oh, Cristo! Te l'avevo detto! Mi hai costretto tu a farlo! Mi hai costretto tu! Io sono dio! Te l'ho detto! Te l'ho detto! Ciao ragazzi Se anche questo video vi è piaciuto Mi raccomando Mettete un bel polliciazzo su Lasciate un commento Qui sotto! E voi andrete a vedere Spider-Man Far From Home E ora Passiamo ai salumi! Ciao Io sono Watson E ci tenevo a salutare Simon Gaming Ciao Simon Gaming Io e Sherlock Ti aspettiamo per fumarci Un bel bong insieme Ciao Io sono Hitler E ci tenevo a salutare ATL Aster Ciao ATL Aster Crortofel Allora Io che sono Paul Ci tenevo a salutare Sfera e basta Ciao Sfera e basta Mi raccomando Stai attento a car Io che sono Sel Ci tenevo a salutare Mattia Smecca Ciao Mattia Quando vuoi Vieni nella mia arena A sfidarmi Ahahahah Ahahahah